Oggi parliamo di una Panda Van 1.3 Multijet, immatricolata nel 2018, unico proprietario proveniente dal noleggio a lungo termine. La manutenzione è stata tutta effettuata, la vettura verrà preparata e tagliandata dalla nostra officina. Attenzione, non è una Panda delle poste, perché risaputamente quel tipo di auto è assolutamente da evitare. Sono tutte scassate, maltenute e maltrattate, anche se vengono ripristinate esteticamente dal punto di vista meccanico, lasciano molto molto a desiderare. Qui c'è l'iva esposta, è tutta fatturabile, vi scaricate tutto, l'auto è in perfette condizioni, ottima, e la trovate alla Lenticar a Castelletto di Branduzzo in provincia di Pavia. Mi raccomando, non sbagliate con cessionario, ok? Lenticar. Ciao!